L'ASL di Teramo ha confermato un caso di scabbia in una scuola dell'infanzia del territorio. Il SIEESP ha avviato le procedure previste, tra cui l'identificazione dei contatti stretti e l'attuazione delle relative profilassi. Nel frattempo la scuola, in accordo con le indicazioni dell'ASL, ha adottato un protocollo di sicurezza informando le famiglie tramite una circolare procedendo alla sanificazione degli ambienti. La situazione è tranquilla, nel senso che sono state messe in atto tutte le procedure di sanificazione per quanto riguarda l'ambiente collettivo. Bisogna sottolineare che l'acaro della scabbia nell'ambiente esterno sopravvive poco, massimo 24-48 ore, è che non è detto che la trasmissione avvenga così facilmente, specialmente in un ambiente collettivo. La trasmissione è prevalentemente diretta, nel senso contatto diretto, prolungato, cute, cute. L'altra modalità, che è la trasmissione indiretta attraverso dei strumenti, del materiale, è rara e appunto poco frequente. Secondo l'ASL, il caso non è isolato al pari di quanto accade nel resto d'Italia. Dall'ottobre scorso sono state segnalate 12 infezioni tra adulti e bambini nel territorio. La terapia della scabbia è una terapia topica prevalentemente, quindi si utilizza una crema che viene applicata nei casi accertati, viene applicata per tre sere consecutive, con l'accortezza appunto di far sì che la crema manca per almeno otto ore sul corpo, sulla cute, e può essere utilizzato anche un detergente specifico sempre, perché ha capacità a caricide. E nei casi proprio dove la terapia, questo tipo di terapia non sortisce un effetto benefico, si può utilizzare anche la terapia orale. Quindi è una malattia che ci preoccupa, perché tutto sommato abbiamo ancora dei ricordi particolari, ma non è una malattia che colpisce una particolare etnia, una particolare condizione sociale o una particolare disagio, situazione di disagio. Certo, in situazioni particolari potrebbe essere più frequente, ma non è detto che una condizione igienica scarsa sia la condizione per averla.